Benvenuti, ciao, brava, Babel, la mia single, di quale istituto? Siamo qui presente al Van Vitelli Stracangelini. Quanti presenti e quanti assenti? Più o meno, 100 presenti e 10 assenti. Ah bene, mancherà qualcuno che non sa che cosa si perde, cosa si perde? Una bella partita. Di cosa? Dello school game. Dello school game, che è questa gara tra istituti del quinto superiore, per fare in modo che avremo chi? Un vincitore. Un vincitore, esatto, una classe migliore, quindi l'istituto migliore, delle marche prima e poi? E poi a livello nazionale. Quindi di? Dell'Italia. Dell'Italia, un bel applauso, bravissimo, bravo, 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 bravo.